Quest'anno i saldi sono davvero un'occasione da non perdere e una ventata di aria fresca. Al Centro Commerciale Valdichienti, l'Oasi dei Saldi. Offerte, sconti e vantaggi per godersi al massimo l'estate 2012. All'Ipersimpli e nei negozi della Galleria ti aspettano offerte imperdibili pensate apposta per venire incontro alle vostre esigenze di risparmio. Centro Commerciale Valdichienti. La scelta con tutte le scelte. Tutte le domeniche di luglio, aperto dalle 10 alle 21.